Potrebbe essere comunicata entro domani la giunta rosso-nera di Biceglie. Il sindaco, Angelo Antonio Angarano, si sarebbe ormai segnato all'idea di non poter accontentare tutti i pretendenti. Ha promesso troppo e un po' a tutti in campagna elettorale ed oggi trova conseguentemente difficile riuscire a far quadrare i conti. E siccome la candela si consuma e la processione non cammina, sembrerebbe deciso a indicare almeno sei assessori su sette, lasciando i malpancisti ai loro dolori. Oltre ad Angelo Consiglio, che sarebbe anche il vice sindaco in quote il Torrione, gli altri assessori sarebbero Dodo Storelli, sempre del Torrione, Roberta Rigante della Svolta, Vittoria Sasso di Sinergie per Biceglie, Gianni Naglieri di Punto d'Incontro e Natale Parisi di Dimensione Cristiano Popolare. Il settimo assessore resterebbe in sospeso e sarebbe destinato ad uno dei gruppi esterni alla coalizione originaria, tipo quello rappresentato da Tonia Spina, che ha ufficialmente sostenuto Angarano al ballottaggio, ma potrebbe essere utilizzato anche per un eventuale allargamento della maggioranza. È data infatti per certa l'elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Gianni Casella, cioè del candidato sindaco, che Angarano ha sconfitto al ballottaggio. Bisognerà vedere se Angarano si limiterà a questo, oppure ci sarà un coinvolgimento organico nella maggioranza di Casella, che porterebbe in dote ben quattro consiglieri, lasciandone all'opposizione solo cinque. Insomma, siamo quasi alle porte girevoli. La sensazione è che ci sia ancora tanta confusione, e che a tirare le fila siano sempre gli stessi maggiorenti, più o meno visibili, nonostante le molte novità presenti in Consiglio, come in Giunta, dove se si eccettua il riesumato Natale Parisi e lo stagionato Angelo Consiglio, la Rigante, Naglieri, Sorelli e la stessa Sasso potrebbero portare nuovo slancio e voglia di fare. Staremo a vedere come proseguirà la baraonda in atto. Magari Angarano ci sorprenderà. Oltretutto sta vivendo una tranquilla luna di miele con la città, altri al suo posto. Sarebbero stati già sbranati, soprattutto sul web. Meglio così. Un consiglio però vogliamo darglielo anche noi. Se la maggioranza si allarga a Casella, considerando che Tonia Spina ha sostenuto Angarano al ballottaggio, che Francesco Spina lo ha votato, così come Franco Napoletano, recuperando Fata resterebbe all'opposizione il solo amendolaggine dei 5 Stelle. Ci pensi Angarano, altro che quella promessa in campagna elettorale. Questa sì che per la città sarebbe una vera svolta.